Mifkash, che tradotto dall'ebraico vuol dire incontri, questo pomeriggio offre una panoramica sui libri ebraici in Sicilia e antiche giudecche siciliane, un patrimonio tutto da scoprire. Una conferenza che inizierà alle 18.30 presso la Chiesa di Sant'Alberto a cura di Chiara Camarda, ricercatrice per l'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e catalogatrice dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia. 1492 è una data che diciamo nelle scuole si impara a memoria soprattutto per la scoperta dell'America ma è anche la data dell'editto di Ferdinando il Cattolico che segna la grande diaspora europea degli ebrei. Che cosa è rimasta di questa cultura ebraica in Sicilia e a Trapani in particolare? Allora ci sono diverse tracce che stiamo cercando di mettere in luce e io attraverso il mio lavoro proprio di riscoperta attraverso i documenti, i manoscritti, ci sono testimonianze fisiche delle varie giudecche che non sono molto visibili perché poi sono state inglobate nei secoli all'interno di un tessuto urbano che è cambiato. Però ne parleremo, metteremo in luce anche le testimonianze trapanesi, il famoso Palazzo Ciambra, lo sappiamo tutti, la sinagoga tanto discussa, lì ancora non si è riusciti esattamente a stabilire l'ubicazione esatta mentre in altre giudecche si conosce quest'ubicazione, sono stati scoperti bagni rituali come nel caso di Siracusa e ne parleremo.